Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, forse un po' per rompere il ghiaccio perché in effetti questa montagna di storia e di anni può anche farci soggezione, quindi io direi di cominciare magari con un piccolo e breve filmato che però ci dà un po' l'idea da dove siamo partiti. Siamo a Roma in Piazza Sonnino all'inizio di Viale Trastevere, al Civico 37, davanti a quello che fu il cinema Esperia, poi negli anni Cinema Roma. Qua alle mie spalle il 4 aprile del 1948, grazie all'impulso di un gruppo di giovani del Comitato Nazionale di Liberazione, si tenne una sorta di assemblea organizzativa della WISP che poi cinque mesi dopo a Bologna diede vita alla Costituzione Ufficiale. Siamo qua dopo 75 anni. Allora io direi intanto di fare una dovuta premessa. Qui c'è uno storico, si chiama Sergio Giuntini ed è lui che sa tutto. Io sono un semplice e banalissimo frequentatore della storia dell'UISP. Potrei dire della storia recente, però non lo dico perché i miei capelli tradiscono abbondantemente il fatto che questa parola recente non ha molto senso. Quindi abbiamo visto Sergio dove siamo partiti, insomma ce l'ha detto Diziano in questa sua apparizione, in questo suo spot. E in effetti forse ecco dove siamo partiti merita sicuramente qualche parola in più. a volte uno dei problemi che si ha non solo nell'ambito delle organizzazioni sportive è l'assenza di memoria. Cioè noi siamo nati ieri e invece magari siamo nati in altro ieri e quindi forse c'è un altro ieri che ci serve. Io volevo fare soltanto questo brevissimo accenno. In ogni biblioteca diciamo ci sono dei libri che a un certo punto ti cade l'occhio, a un certo punto della tua vita ti cade l'occhio e non sai perché. vedi fisso quel pezzo di scaffale e dici ma allora tiri fuori un libro ed è un libro scritto da Luciano Senatori Parità di genere nello sport, una corsa ad ostacoli che racconta proprio il ruolo dell'UISP in questa storia e a proposito di storia, a proposito di ruolo delle donne in questa storia, a un certo punto viene fuori pensate un po' una circolare del Ministero della Sanità. Allora non si chiamava Ministero della Salute ed è una circolare del 1975, quindi non parliamo dell'anteguerra. Un decreto proibisce alle donne la pratica di 19 discipline sportive. Baseball, bob, bocce, calcio, canottaggio, ciclismo, ok su ghiaccio e su pista, lotta libera e greco-romana, maratona, marcia, motociclismo su pista, palla a nuoto, pentadolo moderno, rugby e mini rugby, spada e sciabola, sollevamento pesi e vela. In effetti, ecco, questo pezzo, questa pagina ci dà l'idea del cammino che abbiamo fatto, che ha fatto lo sport italiano, che ha fatto anche grazie all'UISP, però anche del fatto che se rimaniamo fermi, e qui vengo all'oggi, poi queste conquiste e questo avanzamento si arresta ed ecco qui, diciamo che la storia chiama in causa pure il futuro. Ma, Sergio, a te la parola. Allora, grazie. Per uno storico studiare la storia dell'UISP è un tassello della grande storia del nostro paese. In particolare attraverso la storia dell'UISP si può ricostruire dall'angolo visuale dello sport quello che è stato un lunghissimo conflitto ideologico che va sostanzialmente dal 1946 al 1989. La guerra fredda è passata per lo sport e ha profondamente segnato anche la storia dell'Unione Italiana sport popolare. Come avete visto nel filmato, l'UISP non è stata fondata al Teatro Esperia il 4 aprile 1948. Quella è una manifestazione organizzata a sostegno delle prossime elezioni politiche che si terranno il 18 aprile 1948. Uno scontro frontale e totale che ha poi segnato il seguito della storia d'Italia almeno fino a Tangentopoli in cui bisognava mobilitare tutte le forze disponibili. Lo faceva la democrazia cristiana si vide obbligato a farlo anche il fronte che allora si chiamava democratico popolare. e quindi al Teatro Esperia si chiamano a raccolta gli uomini dello sport della sinistra italiana di allora per appunto prepararsi a quello che sarebbe stato il verdetto elettorale del 18 aprile. Il giorno prima, perché questa riunione venne intitolata convegno dello sport popolare, il giorno prima al velodromo Appio di Roma era stata organizzata invece una riunione polisportiva ma tutto l'interesse era accentrato su un incontro calcistico femminile. Da Torino e da Alessandria arrivarono due squadre femminili allora il calcio era una scommessa, uno scandalo che servivano proprio però a creare molta attenzione su questo convegno dello sport popolare che si sarebbe tenuto il giorno dopo. Infatti la stampa diede grosso rilievo soprattutto a quella partita di calcio che attirava molti interessi vuoyeristici più che, come dire, di effettivo valore sportivo. Le elezioni del 18 aprile vanno, come sapete, catastroficamente per la sinistra italiana, per il fronte democratico popolare e allora si decide alcuni mesi dopo nel settembre del 1948 di fondare effettivamente l'Unione Italiana Sport Popolare con un congresso costitutivo tenuto a Bologna dopo lo svolgimento dei primi campionati nazionali dell'UISP. Il congresso, dopo la sconfitta del 18 aprile 1948 si pone un altro obiettivo adesso bisogna prepararsi a una lunghissima guerra di posizione a una lunghissima attraversata del deserto tutte le forze sconfitte tra cui anche quelle dello sport che si erano raccolte a Roma il 4 aprile 1948 si devono quindi preparare e organizzare in una sorta di forma di controstato perché lui viene immediatamente totalmente marginata, esclusa e quindi bisogna darsi coraggio farsi coraggio e strutturarsi sul territorio nazionale con le proprie strutture locali. È molto interessante io negli ultimi anni io ho scritto insieme a Ivano Maiorella e a Bruno Di Monte un libro nel 2008 spero di poter scriverne un altro per l'ottantesimo perché da allora a oggi e da qui all'ottantesimo ho raccolto molto materiale è emerso molto materiale che in occasione della pubblicazione di quel libro non avevo ancora raccolto analizzato, interpretato e oggi ho le idee molto più chiare su come si è arrivati all'UISP all'UISP si arriva attraverso questo è un dato assodato una struttura preesistente che è quella del fronte della gioventù il fronte della gioventù era un organismo unitario antifascista che riuniva diciamo le organizzazioni giovanili di tutti i partiti che si erano posti al fascismo e che avevano partecipato alla lotta partigiana il suo paradigma però era comunista innegabilmente l'80% dei giovani che affluirono nel fronte della gioventù avevano una loro come dire una loro origine politica legata a quella del partito comunista ma ancora prima e questo è un elemento di novità rilevante studiando le biografie diciamo di alcuni dei padri fondatori dell'Unione Italiana Sport Popolare in particolare quella di Gennaro Stazio che è il primo segretario generale dell'UISP quello che organizza il congresso di Bologna e i campionati nazionali di William Valsesia che sarà il secondo segretario generale dell'UISP subentrando a Gennaro Stazio e di Arrigo Diodati che invece è l'inventore dell'associazione campeggiatori escursionisti e turisti molto importante all'origine dell'UISP perché vi coinfluirà e vi porterà molte nuove energie fresche si nota come tutti e tre si formano non in Italia bensì in Francia sono tutti e tre giovani che appartengono a famiglie antifasciste costrette all'emigrazione politica in Francia all'esilio in Francia e in Francia nel 1937 viene costituita dagli esuli politici italiani e in particolare dal Partito Comunista una organizzazione che si chiama Unione Popolare Italiana nasce a Lione nel marzo del 1937 e ha lo scopo di organizzare l'antifascismo italiano in Francia per contrastare l'influenza che hanno in Francia i consolati italiani e soprattutto le sezioni del Partito Nazionale Fascista che sono state create anche in Francia allora nasce questa organizzazione che ha un notevole sviluppo raccoglie 70.000 emigrati italiani ha un proprio organo la Voce degli Italiani diretto da Giuseppe Di Vittorio il leggendario poi segretario della CGL ma l'attività fondamentale che ha l'Unione Popolare Italiana per attirare la gioventù è l'attività sportiva e nel 1938 firma l'Unione Popolare Italiana un accordo di collaborazione con la Federazione Sportiva e Ginnastica del Lavoro che è l'equivalente dell'UISP quando nascerà in Italia in Francia però era già presente da molto tempo tutti e loro tre le loro prime esperienze le fanno in Francia da figli di esuli politici la loro formazione inizia lì Giuseppe Di Vittorio vive a lungo a casa di Walter Valsesia la casa di Walter Valsesia a Parigi era diventata una specie diciamo di luogo in cui molti antifascisti appena erano costretti a lasciare il paese e a fuggire in Francia trovarono una prima forma di assistenza e di accoglienza e poi la loro storia è una storia molto simile Gennaro Stazio fa la guerra civile in Spagna Valsesia e Diodati e anche Stazio dopo l'8 settembre rientrano in Italia per partecipare alla resistenza italiana ma tutta la loro formazione iniziale è avvenuta in Francia attraverso le esperienze che hanno fatto tramite l'Unione Popolare Italiana questo quindi è uno degli come dire degli elementi di forza infatti a Gennaro Stazio lui era anche membro del fronte della gioventù non era membro era un esponente di rilievo perché quando nel 1946 si chiede al fronte della gioventù di allestire una propria squadra ciclistica per partecipare al Giro d'Italia perché nel 1946 il Giro d'Italia riparte ma ha un grosso problema ci sono poche squadre il ciclismo non si sta ancora riorganizzando allora bisogna come dire creare delle squadre ciclistiche allora si chiamavano di indipendenti per far sì che partano da Milano per il primo Giro d'Italia del dopoguerra almeno un centinaio di corridori e il fronte della gioventù allestisce una propria squadra e il responsabile di questa squadra è Gennaro Stazio assistito da Oscar Gridelli che sarà poi il primo vice segretario nazionale del LUIS e loro partono da lì sono rientrati in Italia attraverso la resistenza sono subito stati utilizzati dal fronte della gioventù il cui presidente sapete tutti era Enrico Berlinguer per organizzare lo sport al suo interno lo fanno e poi quando nel 48 c'è bisogno di creare un'unione sportiva perché il fronte della gioventù è già entrato in crisi si è rotto il legame e il collante antifascista dopo che la democrazia cristiana ha estromesso socialisti e comunisti dal governo del paese e allora le esperienze che avevano avuto in Francia che hanno prima trasfuso nel fronte della gioventù le poi portano all'interno dell'unione italiana sport popolare bene ecco questo questo inizio che poi è un inizio che ha delle radici importanti e profonde naturalmente qui dobbiamo anche un po' correre evidentemente pure per rispettare i tempi e naturalmente le tante persone che devono intervenire però poi a un certo punto diciamo questa storia di contrapposizione di guerra fredda in qualche modo diciamo trova altri canali dove la contrapposizione resta in molti termini e in molti tempi ma diciamo come dire trova dei canali delle sedi dei palcoscenici diversi io parto dal punto di vista diciamo più del testimone naturalmente poi quello dello storico è il compito della sintesi e io personalmente dov'è che conosco l'UISP conosco in questi primissimi anni settanta quando lo sport è ancora una contrapposizione profonda tra un pianeta fatto soprattutto di agonismo straorganizzato e di un disordinato nella totale assenza dello Stato intervento sullo sport sociale e nascono queste grandi battaglie per il verde questi grandi battaglie per come dire un agonismo inclusivo che diventa un po' anche un codice per l'UISP che poi troverà dei frutti diciamo così più maturi Corri per il verde è una manifestazione ovviamente romana che noi abbiamo dentro diciamo la nostra storia i nostri ricordi poi abbiamo invece il momento della sintesi in vivi città che diventa una straordinaria capacità diciamo dell'UISP di interpretare un ruolo addirittura a livello internazionale io posso dire che quindi passo dal ragazzino che vince la classifica di Corri per il verde per famiglie al giornalista che segue l'UISP con la gazzetta dello sport in Bosnia per il famoso appuntamento di Buon Natale Sarajevo che magari qualcuno potrà ricordare che porta nella Bosnia quasi liberata dall'assedio e dalla guerra tantissimi aiuti e noi veramente abbiamo passato lì dei giorni magici e questa mattinata di aprile con la neve col freddo con le colombe di questo vivi città che riporta lo sport a Sarajevo in questa città martoriata e colpita addirittura prima dello sport internazionale dello sport della federazione internazionale di atletica perché non so se tutti sanno che l'UISP organizzò vivi città Sarajevo in aprile e a settembre Nebbiolo portò il meeting di atletica nello stadio che confinava purtroppo con questo feroce cimitero di guerra ecco io volevo chiederti volevo confrontarmi con te su questo proprio su questo passaggio è chiaro che siamo costretti ad andare veloce ma si passa da questa come dire da questa idea dei due mondi dello sport a mondi che in qualche modo si contaminano e poi c'è anche l'aspetto naturalmente del cambio di denominazione e su questo io vorrei veramente spendere una parola perché anche così ritrovando alcuni appunti di quegli anni ho pensato a una cosa e volevo su questo un po' il tuo il tuo conforto oggi si fa un gran parlare di sport plurale si dice che questa è una parola che va declinata in senso plurale e quindi non esiste più diciamo lo sport della lista delle discipline sportive molto spesso olimpiche ma esiste una gigantesca lista di attività molto spesso entrate nello sport come dire in un in un approccio quasi fai-da-te nel senso poi a un certo punto inevitabilmente si è dovuto fare i conti e sport è diventata una parola che si pratica nelle carceri che evoca il problema della sostenibilità dell'ambiente della ciclabilità di tutta una serie di contenuti che ci danno l'idea di questo sport che è una parola che si è incredibilmente allargata e devo dire che l'UISP di Missaia è protagonista in un modo incredibile a rileggere certi testi cioè anticipa questa idea di inclusione di allargamento di questa parola che poi è diventata oggi diciamo non manca in nessun discorso ma che naturalmente 30 anni fa 25 anni fa era era assolutamente sconosciuto come concetto non credi sono d'accordo allora nella storia dell'UISP gli anni decisivi sono stati 60 70 e 80 si passa dal catenaccio quello che vi dicevo prima cioè la difesa di quello che rimaneva della sinistra sconfitta a una sinistra che fa anche sport che inizia a elaborare molte nuove idee per farvi capire perché l'UISP va come dire considerata uno dei grandi soggetti sociali del novecento fra di voi sicuramente c'è ci sarà spero chi ricorda una delle più belle più entusiasmanti canzoni politiche scritte nel nostro paese per i morti di Reggio Emilia di Fausto Amodei nel 1960 e per questo parlo anni decisivi 60 e 70 agli 80 poi farò tre esempi per rispondere alla domanda di Piccioni nel 1960 c'è il primo tentativo di spostare nettamente a destra l'asse politico del paese si forma un governo monocolore democristiano con Presidente del Consiglio Tambroni sostenuto estornamente dal Movimento Sociale Italiano in tutto il paese si ha una protesta contro questo tentativo e in particolare per la provocazione del Movimento Sociale che aveva deciso proprio quell'anno di tenere il suo congresso nazionale a Genova città medaglia d'oro della resistenza ci saranno moltissimi scontri di piazza e a Reggio Emilia moriranno cinque giovani e Fausto Amodei racconta di questa strage della polizia e ci sono alcuni versi che vi voglio leggere per farvi capire come entri prepotentemente anche lui in questa grande storia del nostro paese i versi sono a 19 anni è morto Videofranchi per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti sono morti sui vent'anni per il nostro domani sono morti come vecchi partigiani uno di questi tre vittime enunciate da Amodei Lauro Farioli era un giocatore di una società calcistica dell'UISP di Reggio Emilia la San Bartolomeo l'UISP in vista delle Olimpiadi del 1960 fa un grande sforzo organizzativo perché ritiene che queste Olimpiadi possano rappresentare nella storia del nostro paese una svolta eravamo un paese che non faceva sport che lo guardava seduti in poltrona davanti alle televisioni bisognava cambiare marcia e quindi l'UISP organizza una quantità di manifestazioni giovanili di massa in tutto il paese le giovani speranze d'Olimpia si chiamavano sapete che l'ultimo tedoforo delle Olimpiadi Romane del meo del 1960 è un atleta dell'UISP e addirittura questa grande mobilitazione di massa dell'UISP insospettisce molto gli organi di pubblica sicurezza e il SIFAR l'intelligence delle forze armate allora diretta dal generale Giovanni De Lorenzo lo stesso che tenterà un colpo di Stato il piano solo nel 1964 fa come dire spiare l'UISP perché si ritiene guardate all'archivio centrale dello Stato di Roma ci sono faldoni sull'UISP del Dipartimento Generale Pubblica Sicurezza perché si ritiene che queste giovani speranze d'Olimpia abbiano scopi di altra natura che non siano come dire estrettamente sportivi quindi dal 1960 l'UISP che pure è sempre tenuto sotto una sorveglianza rigidissima da parte degli apparati dello Stato inizia però a elaborare delle proprie nuove idee e la loro la prima grande rivoluzione diciamo elaborativa di lui sono i centri di formazione sportiva del 1962 in cui si capisce che lo sport bisogna legarlo agli enti locali quindi c'è un grandissimo decentramento della proposta sportiva e soprattutto bisogna rivolgerlo soprattutto ai giovanissimi e anche a giovanissimi che però non devono essere lasciati artigianalmente alla buona volontà di chi come dire lo sport l'ha fatto e poi crede di poterlo insegnare ma insegnanti di educazione fisica e infatti lui è il primo ente di promozione sportiva che capisce che lo sport per farlo va fatto seriamente il primo centro di formazione sportiva viene organizzato a Prato nel 1962 e poi questa questa diciamo questa esperienza si svilupperà su tutto il territorio nazionale e sarà il primo grande successo dell'UISP che si presenta di fronte anche al CONI e alle altre organizzazioni sportive come un come dire come un soggetto dello sport che porta delle grandi novità la seconda grande novità è quella degli anni 70 nel 1968 a Roma si tiene una marcia per il verde la guida l'allora presidente nazionale dell'UISP Arrigo Morandi ma dietro a lui c'è il segretario provinciale dell'UISP di Roma Giuliano Prasca che è il primo che intuisce come lo sport le attività motori vadano collegate anche alla salvaguardia del bene pubblico a recuperare spazi degradati a riappropriarsi di beni che sono stati come dire spogliati e che non sono più fruibili da parte di chi voglia fare attività sportiva all'aperto e lì nascono le due grandi nuove idee dell'UISP il corri per il verde che parte da Roma che va a portare la gente a correre nei grandi parchi della città e il corri per la salute che è diciamo il padre di tutte le corse non competitive che poi sono diventate un fenomeno di massa in tutto il paese questa è l'altra grande intuizione la grande novità che fa sì che l'UISP continui in questo processo di crescita e di come dire consolidamento come organizzazione sportiva che sa portare idee e novità nel patrimonio sportivo del paese e poi si arriva agli anni ottanta quando dopo il fallimento bisogna dire le cose come stanno del processo di unificazione con l'Arci quando l'UISP riconquista la sua autonomia la sua indipendenza ha la fortuna di incrociare la propria storia con quella di un intellettuale prestato allo sport Gian Mario Missaglia che traghetta l'UISP popolare nell'unione italiana sport per tutti perché capisce che ormai il fenomeno sportivo si è evoluto è diventato qualche cosa di profondamente diverso da quella che era come dire l'identità e la matrice originaria dell'UISP che bisogna proprio come dire creare dei nuovi linguaggi creare delle nuove forme di lettura dello sport contemporaneo e questo ha fatto sì che l'UISP sia diventata mi permetto di dirlo non perché sono qui davanti a voi il vero asse trainante degli enti di promozione sportiva italiani quelli che hanno saputo guardare più avanti e prima e questo quindi è il processo che poi arriva fino ai nostri giorni rispetto a quanto diceva Piccione la grande pluralità dello sport di oggi infatti secondo me oggi la parola sport è una parola che si fa un po' fatica a contenere nella sua diciamo origine semantica perché sport vuol dire tutto fino all'ottocento diciamo fino alla fine anzi quasi fino alla fine dello scorso millennio lo sport era soprattutto quello dell'agonismo della competizione oggi lo sport è tutta un'altra cosa e per essere giunti a ciò ripeto fondamentale è stato il grande contributo ideativo di Missaglie dell'UISP dunque io volevo a questo punto andare verso la conclusione anche perché il tempo stringe e fare un'ultima osservazione magari rivolgo ecco ora però diciamo che bisogna come dire resettare in qualche modo questa storia perché noi siamo arrivati alla fine del 2018 a una situazione per molti versi paradossale cioè la famosa ormai eterna quasi assenza dello Stato si è interrotta con un processo riformatore che però fondamentalmente è stato divorato in una piovra disordinata diciamo e in un vero e proprio percorso di guerra che piano piano ha perso questi input riformatori che avrebbero potuto invece e in parte solo in parte l'hanno fatto cambiare questo paesaggio il paesaggio in cui sostanzialmente lo Stato ha detto al CONI alle federazioni sportive agli enti di promozione pensateci voi perché io non ho tempo è cominciata un'altra storia e oggi secondo me l'UISP e voi tutti avete di fronte una una grande sfida ve lo dico proprio francamente cioè voi avete la sfida di difendere sviluppare implementare un'identità un'identità che è forte senza autoreferenzialità senza perdervi in questo schema vittimistico che ha distrutto ogni forma di propositività e di creatività all'interno dello sport italiano dove ognuno sostanzialmente non fa che dire siamo bravissimi siamo tanti siamo tantissimi all'estero ci invidiano abbiamo vinto un sacco di medaglie tutto sommato adesso l'ultimo verbo è quello di dire ma siamo pure andati un po' avanti nella pratica sportiva per tutti ma ma io faccio su questo due brevissimi esempi il ministro oggi ha fatto un bel intervento un intervento coraggioso che ha posto alcuni temi direi quasi un intervento di una persona che si è sentita a casa in un mondo che forse apparentemente non dovrebbe essere casa sua ecco l'obiettivo è quello di cercare di dire al ministro di non andare avanti su strade che solo apparentemente portano a delle novità dei cambiamenti positivi e sono invece degli slogan che succhiano energie e secondo me non si tradurranno in un aumento della pratica sportiva e soprattutto dell'inclusione i giochi della gioventù i giochi della gioventù sono un modello superato un modello di agonismo minorenne che ci porta a spendere e a sprecare delle energie però siccome i giochi della gioventù sono un nome un nome bello un nome che può essere riempito di cose veramente utili a una pratica inclusiva dello sport allora cerchiamo di capire che per esempio la proposta di legge che è stata presentata e che dice che sono le scuole a scrivere in forma individuale gli atleti è una proposta sbagliata perché noi invece dobbiamo partecipare per scuole si deve cariggiare per scuole stimolare questo senso d'appartenenza inventare delle nuove gare inventare delle nuove competizioni ecco io invito l'UISP ad assistere proprio il ministro a entrare dentro questa dialettica che molto spesso invece viene ristretta diciamo a una serie di addetti ai lavori che improvvisamente tirano fuori una carta una proposta di legge che è già allo stato avanzatissimo e poi si dice ma intanto andiamo con quella poi vedremo in sede il regolamento di aggiustare qualcosa ecco aggiustiamola prima entriamo in questo dialogo in questo dibattito aiutiamo anche un ministro che mi sembra abbia una grande capacità di ascoltare anche in questa direzione l'altra cosa che voglio dire in questi anni lo sport ha avuto tanti soldi ora dirò una cosa impopolare ma se noi andiamo a vedere certo c'è stata la pandemia c'è stato il disastro c'è stata la crisi energetica ma noi abbiamo avuto una pioggia di bandi di tutti i generi con pletore di commercialisti al lavoro per sbinare tutta una serie di trappole che ci sono per poter accedere a questi finanziamenti allora vogliamo finalmente un po' riunificare questa geografia di questi finanziamenti trovare dentro queste continue sollecitazioni e proposte un filo di coerenza dico una cosa banalissima ma che senso ha fare dei finanziamenti da centomila dove ci vogliono appunto delle consulenze tecniche micidiali e che vanno a 20 30 soggetti molto spesso sempre gli stessi e che spostano poco o niente ma non è meglio per esempio nella scuola dare alle associazioni la possibilità di microfinanziare che però consentano di dare delle gambe ad attività sofferte che sempre si arrampicano sul tentativo di trovare la piccola somma ecco per esempio vogliamo dire a sport e salute avete fatto delle cose notevoli chapeau quando siete andati a Napoli e avete ristrutturato degli spazi non convenzionali cortili spazi adiacenti alle scuole e li avete rigenerati sportivamente ma questa idea del bando mostruoso da 100.000 che è soltanto apparentemente una possibilità di sviluppo della pratica sportiva ripensateci rivedetela cioè noi abbiamo bisogno di strumenti sul territorio elastici che possano essere percepiti dalle persone perché se no come dice il ministro i volontari scappano perché io dovrei mettermi a lavorare dentro un contesto dove tutte le volte che propongo cerco qualcosa mi si dice è però non ci sono soldi è però questo non si può fare però il permesso non si può avere cerchiamo di sviluppare questi circuiti virtuosi cerchiamo di abbattere questi barriere ecco io penso Tiziano te lo dico con grande affetto e scusami se sono andato in qualche modo fuori tema in questo mio intervento io penso che voi abbiate una grande responsabilità la responsabilità di imporre dei contenuti di presentarli di proporli e quindi di costruire una nuova identità una sottolineatura della vostra identità che possa essere però e possa produrre un effetto benefico e virtuoso su tutto questo gigantesco mondo dello sport italiano che però come ha detto il ministro sta soffrendo e sta soffrendo veramente tanto io volevo solo dire che sono d'accordo con Piccioni sul fatto che i giochi della gioventù oggi non abbiano più nessun senso e da storico faccio una breve annotazione già nel 1968 69 lui si era opposto ai giochi della gioventù perché badate non avevano solo la finalità di come dire introdurre lo sport nella scuola allora se consultate la stampa ve ne rendete perfettamente conto vennero anche utilizzati come risposta alla contestazione studentesca ai giovani che protestavano che facevano picchetti davanti alle scuole e venivano proposti invece come i giovani sani che fanno sport invece di andare appunto a turbare l'ordine pubblico era solo per grazie davvero Sergio grazie Valerio ascolteremo ci fermeremo qua ad ascoltare per ore e ore Sergio e quella disponibilità che ci hai lanciato ovviamente è colta da tutti da tutti noi abbiamo di fronte ecco perché guardiamo sempre i traguardi successivi l'ottantesimo e quindi sicuramente ecco ti chiediamo già di metterti il lavoro ma non ti sei mai fermato quindi grazie anche di questo di averci anche accompagnato a distanza in questi in questi anni veramente è stata un'emozione oggi per me ma credo di condividere il pensiero di tutte le delegate di tutti i delegati ascoltarti in un percorso che oggi che oggi rilanciamo quindi grazie veramente di cuore solo alcune considerazioni rispetto alla chiusura di Valeri intanto grazie Valerio per essere qua anche tu oggi grazie per seguirci sempre con molta attenzione hai messo sul tavolo delle sollecitazioni che meriterebbero anch'esse ore e ore di approfondimento io credo che questa associazione lo dico credo senza senza alcuna autoreferenzialità da presidente ma da socio abbia dimostrato in questi anni intanto di mettersi a disposizione del bene comune io ricordo nei primi momenti di elezione del presidente la prima elezione del presidente Malagò la UISP fece di rappertamento un percorso diciamo che andava a sostenere l'altra candidatura per il percorso che si era fatto anche negli anni precedenti dal nostro dal presidente nazionale Filippo Filippo Possati nel 2013 poi arrivò la presidenza di Vincenzo io ricordo quando Giovanni Malagò dicemmo con la schiettezza credo che ci contraddistingue che ha sempre contraddistinto l'UISP Giovanni c'è un sistema che ha bisogno di riforme avvia un percorso di riforme noi iniziamo la battaglia sulla trasparenza che ci portò qualche anno dopo addirittura a ricorrere al Tar fu il ricorso al Tar contro diciamo forse l'ultima delibera in ordine cronologico assunta dalla giunta nazionale del CONI rispetto all'errogazione dei contributi poi dagli a poco passò in virtù della legge di riforma alla società sport e salute il Tar ci impiegò direi due anni due anni e mezzo se non tre ad arrivare a una decisione diciamo molto arzigogolata per dire no tutto ora vado alla sintesi proprio scusate taglio con l'accetta spero che giuristi presenti mi perdonino alla considerazione no tutto quello che è sport come dire i panni sporchi dello sport si lavano all'interno del sistema diciamo di giustizia sportiva lo facciamo con una tensione etica di cui avete parlato voi che ci arriva da quelle esperienze del 48 e ancora e ancora prima come soggetto voglio dire di natura sicuramente privata associativo ma che in quel caso con una forte responsabilità anche sul tema sul tema delle risorse io credo e lo abbiamo ascoltato all'ascoltato oggi ma il lavoro diciamo di questi di questi mesi che oggi appunto ci sia un ministro che oltre ovviamente avere competenze conoscenze che li derivano anche dalle sue esperienze passate come dicevi Valerio ascolta e tu hai fatto bene ti ringrazio anche di questo ma lo stesso ministro ovviamente lo sa e qualche volta ci troviamo anche a parlare di questo rispetto a quelli che sono i nostri valori associativi e che oggi Sergio ha rimesso sul tavolo della nostra storia della nostra memoria con grande efficacia siamo lontani ma lo dobbiamo dire lo dico da presidente della WISP questo forse da tanti anni ecco guardo soprattutto Vincenzo da tanti anni il primo ministro al di là delle no sappiamo che non c'è un ministro diciamo sempre un ministro dello sport c'è un'autorità di governo con poteri regolativi e di verifica e di controllo quindi a volte quella delega è stata in capo al presidente del consiglio a volte al ministro della cultura a volte al sottosegretario di turno questo è il primo ministro quando ci sediamo davanti non dobbiamo raccontare cos'è la WISP anche di ministri di sottosegretari appartenenti ad aree politiche diciamo per i nostri valori progressisti che abbiamo richiamato oggi più vicini dico questo perché io credo che quelle responsabilità a cui ci richiama Valerio siano le responsabilità su cui dobbiamo maturare sempre maggiore consapevolezza e dobbiamo però chiedere io credo il sistema sportivo noi lo facciamo ecco qua parlo del sottoscritto che qua non per autoreferenzialità ma perché ho questo come dire dovere di rappresentanza anche all'interno del consiglio nazionale ieri ho detto qualcosa alla fine della tavola rotonda condivisa anche col presidente Pancalli ma il tema è che questa WISP è che assolutamente deve sempre proseguire su quello sull'altra indicazione che dava Valerio quindi sviluppare identità senza perdersi in vittimismi che distruggono spesso tutto nel mondo dello sport non vogliamo ovviamente essere essere visti come questo anzi siamo quelli che forse tra pochissimi come dire non perdono occasione a tutti i tavoli compreso il consiglio nazionale del CONI per portare istanze che sino ad oggi non sono state diciamo così troppo ascoltate abbiamo di fronte grandi sfide sicuramente nei prossimi mesi spesso ci troviamo anche con Valerio in coda ai consigli nazionali del CONI a fare qualche commento c'è sicuramente un governo che sullo sport sui giovani sul terzo settore sta dicendo cose importanti sicuramente nei prossimi mesi dovremo vedere la messa a terra anche per arrivare alle questioni apparentemente molto più lontane dai temi alti che stiamo toccando ora a questo tavolo i registri però come dire anche oggi il ministro assunto di fronte a noi diciamo pubblicamente perché ormai come dire non sono più riunioni che si tengono nel segreto delle stanze di un'associazione di un'organizzazione ma credo che anzi il nostro ufficio stampa e comunicazione abbia già messo in rete tutto quindi in questo caso un grande colgo l'occasione per ringraziare il sistema della comunicazione per ringraziare in modo particolare Valerio che io devo dire ecco senza ovviamente parlare in senso non positivo di tuoi colleghi ieri abbiamo avuto con noi altri due tuoi colleghi straordinari come Guido Dubaldo come Roberto Natale ma c'è un mondo della comunicazione che secondo me dedica ancora troppo poco spazio allo sport sociale troppo poco spazio allo sport di base troppo poco spazio a quello che ricordavi Valerio anche rispetto alle trasformazioni alla riforma il tema dei bandi il tema delle risorse quello che la WISP dice quello che stiamo portando avanti soprattutto nell'agibilità del terzo settore in un'agibilità sicuramente molto minore all'interno del sistema del sistema sportivo quindi grazie veramente per quanto ci riguarda non sei andato assolutamente fuori tema come non ti accade mai e anzi hai colto quest'occasione per come fai sempre in qualsiasi occasione ufficiale informale di essere uno stimolo importante e prezioso per noi quindi grazie davvero anche per questo